ciao a tutti oggi si ricominciano i lavori con armati di flessibile andremo a tagliare sia la testa che la punta dei chiodi per rendere il manico come potete vedere arrivare a ottenere un risultato del genere ora iniziamo e ci vediamo durante i lavori la testa che si ricominciano i lavori con il nostro corso ecco il risultato che vi dicevo prima non Grazie a tutti Manico fatto Ora ci diamo una mano di vernice trasparente per fissare il colore All the thoughts that we survived All the moments that we suffered Yes we suffered Now 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 Asperto in verniciatura, ci vediamo a fine lavori per farvi vedere come è rimasto. Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! L'abbiamo finita, ora ve la faccio vedere, abbiamo finito di colorarla, montare i tasti, abbiamo montato le corde, adesso vi faccio vedere come è rimasta. Grazie a tutti! Grazie a tutti!